Di pallavolo Modena Volley che si sta allenando al gran completo al Palapanini, sono arrivati anche i reduci gli ultimi dalle nazionali, è arrivato Bruno il primo ad arrivare di questi giocatori impegnati con le nazionali dal Brasile, poi è arrivato Erwin Gapette ed è arrivato anche l'opposto Nimir Abdelaziz francese e olandese, è arrivato naturalmente Coach Gianni impegnata agli europei con la nazionale e tedesca. Abbiamo parlato di nomi nuovi di Modena Volley, chi c'era l'anno scorso? Grande esperienza, grande qualità, è il centrale Dragan Stankovic. È importante che in questo momento tutti i giocatori sono pronti di allenare, quindi sono in una buona condizione fisica, adesso tocca a noi giocatori e anche allo staff a prepararsi a meglio a inizio della stagione e sperare di riuscire a divertire sia noi che il pubblico che spero verrà al palazzetto nel maggior numero possibile. Sicuramente siamo una delle favorite nel campionato e come detto prima adesso tocca a noi prepararsi al meglio perché sono tante altre squadre ben rafforzate, squadre forti che secondo me piccoli dettagli decideranno chi vincerà i scontri diretti. Quindi andiamo per adesso, andiamo piano piano, passo dopo passo, costruiamo prima il gruppo, la nostra entità, il gioco e andiamo a partire dopo partita.